L'Italia lo sa, che il TAM non si deve fare, vi serve solo a rubare soldi a partiti, poliziotti e magistrati, la vostra legge in OTAN non fermerà. Se tu vuoi processarci ancora, troverai folle sotto la procura, lo sai perché scendo in piazza con la Val di Susa. C'è una ragione, ho la rabbia in fondo al cuore, piazza o cantiere, ti veniamo a prendere.